pensa che invece ma se lo farò comunque è vero è vero perché marco ha contratto una unwanted pregnancy che non mi viene in italiano sì una gravidanza una gravidanza indesiderata c'ho un esame dopodomani quindi voglio svegliare il prima possibile per studiare hai visto ayrus hai l'audio buffo sono liquidi della trust che probabilmente hanno pagato 8 euro sembra che parli presente i walkie talkie dicono che sono bello da io lo so che tu sei bellissimo aero diverso però veramente male piccioni live sennò ci bandano per amore non accettato aero ti prego amici sono tutti qui riuniti oggi perché è finito metto il mouse faccia marco ma per favore non farlo mi sta scappolando con il mouse perché siamo tutti qui riuniti oggi perché perché ha finito le tre il nostro primo e tre insieme io sono molto contento onorato quasi io senza quasi di averlo passato con voi anche io però io non volevo marco durante le conferenze di notte anzi non volevo luca che ha dormito durante la conferenza square non si deve sapete perché luca non ha dormito prima della conferenza perché io non ho dormito che facevano io non ho dormito per la mia insonnia ma lasciamo stare e non ho dormito neanche dopo infatti luca non ha dormito perché ha spruzzato dello spray anti zanzare che era pensato per esterni non ho l'ha mangiato dalla che è una granata e fatto sta che no ha detto dopo ha detto che spruzzato fatto sta che non è più potuto entrare in camera per le restanti tre ore circa e quindi non ha dormito è già tanto che si è alzato stamattina ma infatti l'hai visto faccia poverino non è la prima volta che usa no 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 ma lì usa anche come condimento no ragazzi come deodorante ma perché dovete dire queste cose l'unica differenza dalle volte precedenti ad esse che magari ha imparato a leggere letto per esterni i volumi tanto vuol dire fuori i volumi vanno bene cosa che vanno bene ho capito alice alice sai intanto amici io mi sono preso mi sono preso ma non posso farvi rivedere per esteso bravo ma perché ci sono delle cose compromettenti contro la religione cattolica allora ad esempio l'audio sembra buono ok cioè deve essere tutto preciso sino l'audio sembra buono non è sufficiente io vengo a casa tua e ti lancio marco arti a mila bilanieri facciamo dormire con luca occhio e sulla culla nella culla nella culla ti ci leghiamo con luca poi lui ti prende l'interno aspettate un attimo dato di una frase sotto la banca il campo più piccola marco di una frase non dire con la capezza tutti quanti una frase a testa luca lecca gli animali mievini piedini 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 azzi l'idea è chiaro che sia ragazzi aero al massimo ragazzi io sono un po basso e poi un pochino dice ma dice ma c'è più alta degli altri ma dice più a tutti quanti ai rotus e bassissimo però se al massimo credo io è quello l'unico cosa che posso fare è questo ok ci dormite voi con i furri scelerati allora arti non farmi in cazzo vogliamo cominciare che la carne è organizzato si ha organizzato una simpatica lissima per ogni conferenza io sono uno che si mette a parlare gli anni e io sono qui fare il parassita vabbè iniziamo subito conferenza yay non dite quello che penso conferenza yay io qui ci ho scritto una piccola blasfemia che non posso leggere in questo momento non parlo però la scriveva diceva che padre pio è una cosa che stai dicendo perché allora conferenza forse supporre che per te la conferenza yay potrebbe essere paragonato ad uno degli animali protagonisti della fattoria degli animali sì 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 in un ambito molto vicino a un luogo dove si usa vincenzo soprattutto gli animali gli animali questo fattore degli animali sono quelli che alla fine comandano capisci esatto allora andiamo comunque no yay è stata vergognosa vergognosa a livelli astrali e non mi parlare sopra che cazzo di modo che mi è preso la star wars lo vogliamo tutti quanti no? star wars? star wars star wars star wars star wars star wars star wars che schifo persona di merda allora passiamo alla piccola software piccolo commento su yay potevano evitarsi tutto quanto e soprattutto potevano se la facevano di un'ora con i contenuti che avevano forse sarebbe anche andato bene sì sì bene sarebbe stato quasi quasi al limite dell'accettabile guardiamo una cosa cioè pensiamo al fatto che la microsoft in un'ora e 40 ha fatto 60 giochi e che l'yay interrorena ha fatti 6 ragazzi no in termini di roba nuova ha fatto schifo quanto la square soltanto che la square ti ha cacciato la data per final fantasy la square ti ha cacciato anche un gameplay per final fantasy sì però fall in order potrebbe sembrare un action adventure dalla sekiro sì abbastanza carino poi vabbè season pa cioè vi rendete conto che yay ha cacciato apex e la epic non ha cacciato fortnite esatto dopo ne parliamo della conferenza pc gaming ma la epic non gli è servito parliamo anche del succo alla frutta che stai bevendo vero? sì no vabbè fifa 20 col succo al lupolo fifa 20 col col il fifa street che è una bella aggiunta con questo x factor che non vogliamo caso voglio sapere cosa sia e poi un po' non so devi presentarti io vorrei capire chi è che ha detto ma se facessimo un dlc di the sims 4 no the sims 4 annualmente loro cacciano fuori dlc ma a parte che uno non li presentano alle 3 due si ma se ma se ma se lo so lo so lo so che è uscito da 10 anni lo so e ehm da parte quello vabbè gli fanno di continuo una cosa se una vorrei dire una copo non è un mmo certo ma se certo però contando che hanno ucciso dipendenti della divisione 3 e della divisione dei sims che non esiste più devo tirare avanti con quello che hanno ehm certo perché la gente non ha una vita ha fallito e allora se la fa digitale tipo luca che ci gioca ehm allora passiamo a microsoft dai passiamo a microsoft che la roba è tanta allora la roba di microsoft è effettivamente tanta parliamo delle cose che più hanno interessato partiamo prima di parlare dei giochi in generale sarebbe opportuno parlare anche della conferenza in sé esatto diciamo che è stata l'intervento di microsoft nella conferenza di chiano rives comunque è stata è stata piaciuta sì è stata piacevole è stata piaciuta e molto italiana è stata piaciuta ma sì ho la testa esplenda ho fatto un esame e Marco non sei Marco guardami negli occhi anche se non li vedi non sei giustificato e no comunque sì la conferenza microsoft ha avuto buoni ritmi perché erano pa 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 trailer pa 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 uno dietro l'altro ogni tanto si parlava ma erano leccate di culo e duravano tre minuti ma ci possono anche stare perché ci possono ci dare uno stare in una conferenza anche 10 minuti però vabbè però cioè il fatto era hai la grande possibilità di presentarti a un E3 dove Sony non si presenta quindi sei uno dei palcoscenici comunque più importanti perché la fine Microsoft e Sony sono quelli più importanti per il multipiattaforma quindi tu poi ti butti dentro tutto e sganciando i giusti soldi hai fatto vedere la roba multipiatta l'hai fatta vedere sulla tua piattaforma e quello intattiene per chi ne capisce di videogiochi la conferenza microsoft è stata bella no allora la cosa la cosa mi fa incazzare è che io non devo non devo leggere mai commenti riguardanti videogiochi online non lo devo fare perché poi mi incazzo però l'ho fatto mi è capitato perché non si parla d'altro questi giorni giustamente e tutti sono insoddisfatti sono scontenti no ma Microsoft non ha sfruttato l'occasione ma che conferenza ti hai visto anche allora uno può dire uno può dire che effettivamente nel grande calderone delle cose le cose le cose effettivamente nuove non è che se non c'è molta roba si sapeva già però di esclusivo sì però tu prendi prendi la conferenza in sé io quelle due ore sono uscito pazzo a quelle due ore soprattutto parliamo del fatto che è stata la conferenza più lunga e la conferenza che paradossalmente è durata di meno conferenza più lunga è stata un'altra vabbè non la considero non la sto proprio considerando tra le conferenze vere è stata la più lunga e sarà quella che è durata meno perché è veramente volata no a me mi è volata ok allora allora cominciamo cominciamo a dire i titoli che sono stati presentati partiamo da The Outer Worlds The Outer Worlds si sapeva già The Outer Worlds mi garba un sacco e poi adesso cominciamo con le cose che le cose che hanno caratteristico c'è un ragno enorme aspettate un attimo le devo uccidere allora intanto parliamo della della più grande innovazione che è quella del Game Pass ok ragazzi l'ho persa è finita è stato completamente anche al PC oltre che all'Xbox e quindi anche della dell'abbonamento Ultimate per chi ha l'Xbox quella è stata la cosa più grande perché hanno annunciato moltissimi giochi che all'uscita sono disponibili sul Game Pass quindi si pensava porca puttana ma annaggia me devo farmi l'Xbox invece non c'è bisogno posso comunque continuare a usare questo vecchio Gatorcio che ho come PC eh allora sì tipo che al PC pagando 4 ore al mese effettivamente non sono un cazzo no perché il pass Xbox costa 6,99 sì a parte che sono 4 ore al mese ora che è in beta dopo saranno 10 ma non sono comunque un cazzo per il parco titoli che ti offrono non sono una sega la cosa che è effettivamente vantaggiosa da utente che ne usufruisce il fatto di avere di pagare insieme pass e gold pass e gold ok questa è la cosa importante esatto e poi ok poi andiamo ai nostri titoli andiamo ai nostri titoli andiamo ai nostri titoli sparati in ordine così come li porta il sito i3r campo sì perchè mi ha esistato la lancia allora Halo Infinite vabbè no io ho Halo ma abbiamo in ordine detto l'ultimo non è il primo parti dal fondo Marco ma scusate come ragazzi questo ho The Outer Worlds come primo sì sì invece l'ho al contrario scusate Marco è giapponese quindi titolo che è stato sviluppato da i creatori e comunque il team di New Vegas di Fallout New Vegas e Fallout 3 sembra essere un titolo interessante dovrebbe essere alla diciamo nel sistema di gioco sembra molto simile a Fallout 3 quindi ti da quell'idea di forte immedesimazione importanza dei dialoghi e altre esprazioni però ci vedo anche quel pizzico di sarcasmo quel pizzico di ironia che non guasta nei titoli se è fatto nel modo giusto un po' come in Borderlands Borderlands funziona non solo perchè è un RPG dove spari ma perchè è molto ironico e questo iniziate a segnare questa cosa questo esce sul pass e in che senso sono a specchio? facciamo un attimo una cosa per Clement andiamo in chiamata su Discord vi mutate su Discord e Ayrou non si muta su Discord ma si muta su TS ok almeno lui ci sente noi lo sentiamo si 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 ho capito no ma stiamo arrivando Ayrou vabbè intanto Marco vai col gioco dopo il gioco dopo è Bleeding Edge Bleeding Edge è un gioco che è anche con il pass se è cross platform sicuro ve lo portiamo perchè qual'era? quel Bleeding Edge era quel quel Overwatch in realtà completamente 4v4 vorrebbe essere carino si probabilmente ve lo porteremo si ma possiamo dire abbiamo convenuto io e Marco ecco che questo è il queste tre per le premesse che aveva non ci non ci puntavamo un cazzo ma adesso potremmo dire che è le tre del diventiamo poveri non ho capito cosa dovrei fare scusate per i quali dovrò spendere Artyom dice che sono al contrario io mi vedo bene e ti ho flippato me l'ho più sempre il cazzo di non ti flippo ora ti flippo no Airo risentivamo su Discord vabbè comunque io ho la lista di giochi che mi interessano fortunatamente molti sono quel pass ok comunque poi Dado vai su quello dopo allora quello dopo io mi sono segnato Ori ma non so se effettivamente è quello dopo ok Ori Ori il primo Ori mi ha fatto piangere dall'inizio alla fine l'ho appena cominciato ma non perché non perché l'inizio fa piangere booboo gli muore il compagno poi perché c'è un'atmosfera di Cristo cioè quel gioco c'è un Art Direction che non l'hai mai giocato giocalo è sul pass è sul pass è sul pass dimmi dici parla umana appunto volevo confermare io non ho mai giocato non l'avevo mai sentito prima eppure l'atmosfera mi ha fatto venire voglia un sacco di giocarlo subito eh esatto appena hai la possibilità a farlo ed è bello e a parte che a parte con esclusiva microsoft a parte questo ed esce sul pass ed esce sul pass quindi ragazza dei one ci sarà come esce già sul pass il primo però Ori ma se va bene no Ori veramente si no Ori Alberto Clemente non c'è credo ma io ho pure scritto ma perchè sei votato su discord il genio della lampada allora il prossimo gioco airo smutati su discord parla qui e smutati l'audio su ts per favore e la cosa mi fa rizzare la conto il pp nel fatto che c'è su game pass perchè e vai note minecraft dungeons minecraft dungeons il gioco che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere e che tutti in realtà volevano conto fare colpo di genere della microsoft io ripeto quello che ho detto durante la live cioè forse la l'unica cosa che ci si aspettava che non ci si aspettava di fare su minecraft mai nella vita no più che altro amici siete molto stupidi perchè discord ce l'ho sul telefono ts ce l'ho sul pc come cazzo faccio a sentirmi e vi portiamo a minecraft dungeons perchè si perchè a ne piacciono il like avete capito la situazione io ho due cuffie nelle orecchie ma marco sta parlando sopra Airu perchè non lo sente oppure io ho due cuffie nelle mie orecchie in questo momento ma effettivamente ha saputo spostiamo la chiamata su discord no ma vabbè ormai spostiamo la chiamata su discord ragazzi dai 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 va bene ciao velocemente Gianfranco Gianfranco diciamo così no ragazzi oi Alice non sta capendo la logica della cosa neanche io sta capendo un attimo ti ho visto fare ti ho visto fare una faccia molto perplessa tra cui una volta ho cercato di parlare e non sono riuscita a parlare e quindi per favore è che cazzo pure in me Airu non so cosa stai dicendo perchè non avevo ancora messo le cuffie sul Marco con che microfono stai parlando non puoi stai parlando dall'oltre oh no prego 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 ho messo quello del e prem 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 ho messo quello della web solo qualità da unicorgi eccomi qui e insomma con minecraft dungeon avete presente la varietà di mod che ci sono su minecraft hanno fatto l'unica cosa che non si poteva fare con le mod praticamente esatto e io più che altro ho paura perché non sarà modabile un po' mi dispiace ma che ne sai allora è come la windows 10 che non è modabile allora Airu tu perchè modi minecraft perchè minecraft è incompleto perchè su minecraft non c'è una sega da fare sostanzialmente no in realtà no io lo modavo più tanto con cose piccole tipo boh anche un le canne da pesca di ferro e magari in questo caso non serve magari sarà un gioco completo e quindi non serve no non lo so ma anche perchè è diverso se hai una trama e uno scopo esatto no ma sai sarebbe stato figo tipo boh ma c'è la trama e lo scopo sì c'è la trama e lo scopo però è abbastanza fine a se stessa la mod degli Avengers su minecraft dungeon cioè tu all'Elder Dragon potresti arrivarci benissimo in un'ora e mezzo di following per dire sì per carità però è anche questa la potenzialità di minecraft cioè non è sì assolutamente un gioco non riesce a nitrattenere per anni sì 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 con una trama del cazzo sì no con una fine poetica e poi vai solo di farming vai solo di sopravvivente però è come un po' come tutti i sandbox alla fine arrivi a un certo punto in cui non sai più che fare sì dopo un po' stacchi lo molli lì per un anno poi lo riprendi poi lo stacchi allora o lo molli lì per un anno oppure iniziamo a darlo come la merda è questa la cosa sì però dico che minecraft dungeon non è che significa che abbia una trama è semplicemente un gioco diverso però il farming serverebbe a qualcosa secondo cioè sì assolutamente è un genere diverso è un gioco totalmente diverso sì 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 è un diablo clone il diablo clone sono proprio l'essenza one on one del farming sì 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 e poi che c'era? non lo so io non ho una lista io sono arrivata qua totalmente impreparata ci penso io star wars io mi sto segnando star wars star wars io lo vorrei prendere al day one però bisogna mettere i soldi quando hai scelto quanto ecco allora marco parla tu del prossimo gioco perché tu l'hai azzeccato prima che uscisse il io l'ho azzeccato prima all'inizio ero sicuro è blair witch io ero sicuro al 100% fosse il terzo outlast perché la atmosfera all'inizio è outlast è proprio outlast anche il fatto che stai con la telecamera è outlast ecco l'horror poi si è vista la bambolina la bambolina di legno che è quella di blair witch e da lì ho detto e lì ha fatto il colpo di genio ma lì però devo ammettere che sto divertendo abbiamo passato tutta la live a dire ah guarda ecco outlast che cazzo outlast non è outlast non è outlast e allora voglio dire una cosa dato che in live probabilmente penso l'abbia anche detto che qualcuno è arrivato all'apice del piacere il prossimo gioco le dice alice eh sì no no la cazzo di lista alice che è salito sul palco alice alice che è salito sul palco alice uno no finito uno adesso ci picchia tutti ragazzi salito sul palco la persona che voi non sarete mai è troppo bello per essere bello esatto stiamo parlando di marco non vogliamo è salito sul palco chiano rius sì in quanto guest star di cyberpunk 2077 esatto alice cosa ne pensi di quel gioco io non so un cazzo su quel gioco l'atmosfera non so assolutamente niente su quel gioco beh a me è piacere ma guarda in realtà nessuno sa niente di quel gioco alice no c'è un gameplay di un'ora lì fuori sì ma sono impazziti tutti come se ah che cazzo è entrato su daily che cazzo è successo ragazzi da dei neri ho sentito un rumore su daily siete tornati bianchi adesso si è entrato qualcuno ha avuto un attimino di sì perché airo non si fa il cazzo di suo hai capito tranquilli sono 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 entrato non mi è successo nulla no airo airo chi cazzo ti volevo un dato stanzi scusami mi sto taggando la telecamera tipo panica e paura per caso no 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 stai dicendo scusi ti dico che io non ho c'è non ho mai proprio sentito parlare sono tutti mazziti come per dire oh mio dio sai per un po' mio dio sai per un po' sì no ti basti sapere che sì adesso è quello che è successo perché l'hanno annunciato nel 2013 14 sì 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 la cosa importante è chi l'ha annunciato alla fine beh è cd project sì cd project poi l'anno scorso sempre al non mi ricordo di aver visto per in realtà la prima volta l'anno scorso al 2013 ma lì c'è chi è la cd project sono quelli di duit duit no 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 loro lo so chi sono però io non avevo assolutamente idea del gioco allora di base la gente si è entrata malissimo perché cyberpunk 2077 è secondo me uno dei giochi di ruolo da tavolo più difficili che ci sono su disponibili tra quelli un po' più mainstream ma cosa vuol dire gioco di ruolo da tavolo? è tipo dungious and dragons ah su serio quelli che si giocano coi dati sì sì soltanto che cyberpunk è veramente veloce tipo un turno va giocato in circa 6 secondi quindi effettivamente e si muore in un niente cioè tu potresti tranquillamente durante una sessione di 5 ore dover iniziare due campagne perché sicuramente è peggiorabile che muori cazzo è gioco per me allora quindi la gente si è entrata malissimo perché si riescono a ricreare cioè se tu CD Projekt è partita facendo la saga di The Witcher con dei libri con dei romanzi invece con cyberpunk ha una lore di un universo incredibilmente ampia che sono quelle dei giochi di ruolo da tavolo quindi wow anche con possibilità di creare anche delle leggende e quant'altro avendo la possibilità di spazio molto quindi ci si aspetta molto e poi ovviamente la domanda che poi si sono chiesti tutto dopo il grande review al di Keanu Reeves è ma io una relazione con Keanu Reeves la posso avere e loro non hanno risposto non hanno rispondendo vuol dire che sì quindi tutti hanno una relazione con Keanu Reeves comunque sì Artium lo farò lo farò Artium sì è dura tipo un'oretta però sì io devo dire non è un gioco che mi prenderei al day one sicuro e beh Marco se ne capissi di videogiochi no non ne capisco i miei giochi però è anche il fatto che costa una settantina d'euro e ci sono giochi che voglio giocare di più di cyberpunk vedete gli unicorni come sono un gruppo così variegato di persone abbiamo da una parte il signor Cercello che non sa se prendere la day one e dall'altra parte ma se che l'ha prenotato in live l'ha prenotato in live l'ha prenotato in live dopo c'è Spiritfarer allora quel gioco lì quel gioco carino Spiritfarer era quello lì dove ti creavi la barca di Noelle la barca esatto è quello ok ho capito quale era ma non è con l'impass è con l'impass se non gioco caruccio se non gioco caruccio di quelli che riesci a giocare vuoi impiccarti perché la storia secondo me ti farà malissimo sono abbastanza sicuro probabilmente ecco l'impass poi dopo abbiamo Battletoads Battletoads abbiamo Battletoads però 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 questo qua potrebbe generare meno hype di quello che dovrebbe sì perché è quello che è stato perché secondo me questo è riproporre il titolo che uscì sul NES sì perché è un remaster se è riproporre il titolo che uscì sul NES devono correggere soltanto una cosa che lo rendeva un titolo orribile battletoads è un semplicissimo beat em up a scorrimento non stiamo parlando di niente stiamo parlando di un gioco per il NES quindi grazie al cazzo era nuovo all'epoca ha un problema per essere un beat em up a scorrimento cooperativo è il fuoco amico ah cazzo tu pensi davvero che l'abbiano tolto caro Mase? se non l'hanno tolto state pur certi che anche se è uscito sul pass se lo portiamo in live ci chiudono il canale prima del live poi dopo abbiamo The Legend of Rides questo è un gioco molto che era quello è quello disegnato su carta era quello disegnato su un quaderno sì che però non è su Game Pass e vabbè non è su Game Pass era ciao Darko era quello se vi ricordate è molto particolare disegnato su un quaderno con l'interfaccia che era tutta praticamente la scrivania intorno quello lì sembrava molto interessante anche perché sembra includere diversi stili di chiamiamola proto animazione e animazione che sembra molto figo poi vabbè passiamo velocemente sull'idea Xbox ma quello che stanno facendo ultimamente Microsoft e Sony è acquisire case di sviluppo diciamo che se questo trend continua escludendo quelli più grossi che effettivamente rimangono da soli potrebbe scomparire leggermente il multipiatta non lo so però se tu acquisisci case di sviluppo però questi sono discorsi che non non è facile fare adesso anche perché non abbiamo le nozioni di marketing e quant'altro poi dei Game Pass ne abbiamo già parlato intanto è quella così è il gioco di Mase sì Microsoft Flight Simulator Flight Simulator non è neanche un titolo di nicchia è un titolo per quei pochi che ne sanno a pacchi sugli aerei sì perché effettivamente tu hai la riproduzione fedele di un non ridete fate le persone mature cockpit ha detto cazzo ha detto cock e quindi è complicato soprattutto metterci mano le prime volte però tu una roba che ovviamente è esclusivo fai uscire sul Game Pass Windows e Xbox quindi devi anche adattarlo a un controller la roba grande dovrebbe essere il fatto che è integrato già il multiplayer che quella è una cosa che sul Flight Simulator X hanno messo come mod ha le mappe tridimensionali perché prima erano semplicemente dei fogli di immagini satellitari giustamente quindi la prima cosa che faremo tutti sarà andare a schiantare su casa propria Mase Mase una cosa sono le 22.30 mancano 5 conferenze e vabbè ma quale altre successe vabbè vabbè poi nella Nintendo ci sta da parlare ok poi ci sta Age of Empires 2 che lì Alice esplosa l'ho vista esplodere Alice beh scusami cazzo l'ho vista veramente avere un un nirvana raggiungere il nirvana cercavo di farlo in maniera più romantica Marco non potevo dire che ha squirtato sullo schermo ha squirtato esatto avevo già dato perché hanno poi non avevo tempi di recupero così brevi dove passa che hanno un rips non c'è più un'acqua posso dire una cosa io Alice l'ho vista momentaneamente sollevato dalla sedia dalla palla dalla palla non dalla sedia dalla palla e diventa ancora un po' più brutto Marco non so che idea tu abbia del sesso ma le palle stanno lì prendiamo queste parentesi grazie e parliamo di Age of Empires è Age of Empires 2 che diciamo velocemente sarà esclusivo esclusivo sul Game Pass per il PC sì e avrà rispetto ai Age of Empires 2 una nuova campagna con i mongoli e Gengis Khan quindi ha detto mongoli dopo che dopo che qui si esplosa sono esploso io perché Wasteland 3 Wasteland 3 Game Pass anche questo Psychonauts 2 è abbastanza di nicchia è stato il primo Psychonauts ma dice che è una perla non l'ho giocato ce l'ho in libreria ma non l'ho giocato dice che è una perla ma questo più che altro non è esclusivo ma la casa sviluppatrice è stata acquisita da Microsoft è stata acquisita da Microsoft poi i disegni sono molto particolari sì lo stile artistico sembra quello di Tim Burton ma anche quello del primo sì e ci trovo dopo ci trovo squisi che durante la conferenza ha detto ma vuoi mettere che puoi saltare sui denti sì è vero per cercare di convincere Luca che lo stile artistico fosse bello perché Luca ha paura di perché Luca ha paura dopo non dorme perché Luca ha paura Lego Star Wars vabbè hanno messo Lego Star Wars è un gioco che vorrei giocare che ci sono dal episodio 1 episodio 8 sì e vabbè la semplice raccolta la semplice raccolta niente da dire carino basta e ora c'è la bomba uno dei piatti forti c'è la bomba Dragon Ball Z perché c'era sempre in mezzo alle palle aspetta aspetta Ailo puoi ripetere attivo quello che ha detto tutto quello che ha fatto Goku nella sua vita quindi due minuti di che ci creda eh cosa? anche il concepimento dei figli sì ovvio sì 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 anche e soprattutto la parte di di buco di tramo quando nasce Goten ma Goku è morto quella si chiama infedeltà Marco vabbè quello lì sembra molto figo anche il gameplay ricorda parecchio quello di Tenkaichi infatti a noi ci sembrava un voto che Tenkaichi io ero sicuro questo è una cosa molto interessante va bene ecco questo invece è uno dei giochi che mi ha incuriosito assai questo lo voglio assolutamente giocare spero non sia che spero non sia la durata del gameplay no allora un gioco bella visuale dall'auto insomma quello che si è capito tu rivivi sempre aspettate perché a che ti dice di Kakarot il gioco arriva solo fino a Freezer la saga di Android Cell e Majin Buu saranno altri due giochi che cagata ma scusami c'è sei sicuro? è la seconda saga sei sicuro? allora mi deve durare mi deve durare davvero almeno 20 ore mi deve durare 20 ore almeno la storia di Freezer come fai a durare la farla dura 20 ore? la storia di Goku con Freezer che arriva all'ultimo su una Mac come ha fatto durare l'anime? scusa con l'inquadratura di 3 ore si ma durano e si sa no ma parano 3 ore di gioco per trasformarsi no 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 c'è un problema ragazzi 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 però c'è un problema se è soltanto la saga di Freezer e sei Goku e Goku arriva all'ultimo no no il 90% della saga su una Mac lui sta dentro la vasca a farsi cazzi suoi si ma poi passerai tipo un tipo almeno 20 minuti a fare solamente e basta Marco ha giocato l'anteprima però ho giocato l'anteprima si poi vabbè la saga di Saiyan si è capito la saga di Saiyan si la saga di Saiyan era tipo 10 episodi Alan poi c'è il gioco di Bambi se il padre non fosse stato uno stronzo si questo gioco non l'avrei mai preso però è sul game pass quindi quindi forse hanno provato il rado non può dire per forse lo rivisco Gears 5 non ho mai giocato un Gears quindi mi tiro indietro io ho giocato uno ed è difficilissimo però non lo voglio giocare perché c'è la dovevano usare la cazzo di cazzone di biglietti Giuse Giuse, grazie 9 mesi spero che non prenda da mano Marco fallo di nuovo madonna 9 mesi grazie Giuseppe la barca parto naturale o cesareo ecco il cesareo peppere peppere ok poi daylight 2 il controller elite penso sia inutile parlarne perché chi se ne fotte ha talmente tante di quelle cose di Dado cosa stai zitto gliene fotte da Alice scusami quel pezzo di di oro perché costa 170 euro ha talmente tante di quelle personalizzazioni che se dovessi acquistarlo io mi sentirei proprio in difetto verso il controllo perché non sfrutterei tutte le le si avete presente come ha detto mai ma sei prima della cockpit del di flight simulator ha detto conch è come se voi avessi appunto davanti tutto quanto il il cruscotto per chiamarlo così dell'aereo alle mani perché è pieno di tassi e cercare la chiave per accenderlo è come se tu avessi l'intero cruscotto e l'aereo ma tu sapessi solo premere l'acceleratore mi sentirei un cook ah io di daylight 2 devo solo dire che vomito perché hanno fatto la puttanata di mettere la prima di mettere elementi parkour ma sei in prima persona quindi quando fai le capriole vedi la telecamera che si cappotta come come nel primo come nel primo è spettacolare ma io spruzzo no la storia fa veramente schifo ma il gameplay è divertente se lo dice un piccione un piccione grasso sarà che non l'ho pagato quindi era più bello il fatto che dopo un grande spirito lo godivi più perché c'era col plus mi sono ricordo ma comunque l'ho goduto abbastanza sì me ne fregava una sega però ultimamente c'è questo trend perché si è visto molto anche nel 3d daylight 2 dei dei giochi con gli zombie dove la concentrazione è più come come the walking dead è più sulle i rapporti tra le persone che si è sparita la chat si ho tolto i box perché come questo poi vabbè il gioco dopo ne parliamo domani proviamo un attimo allora si forse state of decay ma io in realtà non l'ho eh vabbè è un dlc bisogna vedere che sembra avere molta storia mettiamola normale sì che per state of decay è un po' strano esatto perché lo conosco come gioco non ci ho giocato però comunque vi farei notare come abbiate giustamente subito che vi è stato su Gearsport che era una delle pochissime episodi delle macchie sì ma perché nessuno di noi ha giocato per quello cioè perché Alice ha giocato il 4 però cioè non sono neanche riuscito a finirlo in realtà l'avevo preso perché un mio caro amico nerdone incredibile quando era piccolo giocava all'1 e quello era uno dei primi giochi che aveva introdotto il fatto di mettersi di spalle nascosto e uscire e puntare e con la pistola vabbè però uno è stra difficile soprattutto col joystick che io non sono non so come faccio una persona a giocare ad uno sparatutto con joystick e soprattutto mi fa cagare in mano ora parliamo per la gioia di Acchetti voglio dire una cosa ad Acchetti io vogliamo anche parlare di Gears 5 parliamone non hanno fatto vedere un cazzo l'unica modalità che sembra una gran figata che sarebbe questo la modalità orda però qui hanno voluto mettere dei personaggi con delle caratteristiche è in modalità couch gaming quindi non c'ha l'online nel 2019 che cosa volevo parlare neanche nintendo fa più queste cazzate ragazzi beh non è una brutta cosa rimettere il couch gaming sì ma come opzione come opzione non per forza perché se io voglio giocare con Marco devo spendermi 30 euro di treno è sbagliato escludere il couch gaming è un po' estremo però mi fa piacere questo ritorno sì no questo sì questo quello ci manca comunque i parti sempre i lane allora per no per la gioia di Acchetti adesso parliamo di un'esclusiva Max visto che rompeva il cazzo su Gears parliamo di Gears Pop che schifo andiamo avanti no dai la bomba così viene per la Mase dai no Mase ragazzi ragazzi ad apri a maggio 2020 non ci vedremo smetteremo di fare live esce maledizione quanto sono contento e io lo ripeto col fatto col fatto che Black Desert fosse uscito su Xbox ci hanno preso per culo perché esce Phantasy Star Online 2 free to play con tutti i DLC wow ragazzi noi sicuro non vi porteremo in live forse forse il primo giorno vi porteremo in live qualcosa tipo le prime missioni così poi giochiamo per i cazzi vostri per i cazzi vostri per i cazzi vostri per i cazzi vostri una cosa una cosa Ale Ale Ascolta la mia voce Ale io stavo scherzando per favore non 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 però non è esattamente vero perché non è che hanno portato solo giochi hanno portato un sacco di di idee nuove di cosa nuova già soltanto l'ultimate cioè non non è vero che sarebbe considerata stato considerata flop anche se io fossi stata la sua no flop non credo assolutamente no cyberpunk Dragon Ball e poi anche se fosse meglio andare su multipiattaforma io mi sono rotta i coglioni di queste esclusive di merda perché non è possibile che se io voglio giocare ad un gioco devo avere una console poi se io voglio giocare ad un gioco devo avere un'altra console cioè il mercato delle console sta andando avanti con questa cosa alla fine in realtà sì però il mercato delle console si basa su quello cioè se non avrebbe senso avere una console sì ma non è dalla parte dei giocatori proprio per niente devo essere libera devo essere libera scusi gli sviluppatori non sono mai dalla parte dei giocatori mai nessuno è mai stato dalla parte dei giocatori è una bugia purtroppo perché io stavo dicendo che microsoft sta passando dalla parte dei giocatori perché punta al multi piattaforma punta al cross e punta al locale sto dicendo questo ok sì quella cosa è vero prima di quanto è stata la parte della Microsoft la cosa che punta al cross è meravigliosa tra l'altro perché dopo non lo so 21 anni che vivo in questo mondo era ora allora crossfire x non so cosa sa non ho capito cosa sia ma non si sa niente sembra una roba enorme ma non si è capito se è un FPS se è un TPS se è una roba alla batte però è un gioco è della Smilingate la Smilingate se non sbaglio dovrebbe essere un ehm fai free to play facevano free to play coreani io non ho capito io non ho capito è un sviluppatore è un sviluppatore editore di videogiochi della Corea del Sud meno male che non era dell'altro i free to play coreani sono probabilmente tra i più complicati no non sono complicati sono iper farmosi sono iper farmosi basta vedere Black Desert io ne ho giocato uno della Smilingate che era carino e tutto quanto allora io qui lascio la parola ad Hyru perché è Tales of Arise Hyru non dirlo l'ho detto che mi impiccolo l'avevo detto che mi lanciavo giù dal balcone beh io lo prenderò sicuro anche se lo vogliono fare migliore di Tales of no ma è è uno spettacolo perché è bello Tales of Berseria è di forse tre anni fa quattro anni fa due anni fa due anni fa ah no Vesperio Berseria Berseria vabbè siamo in quella zona lì di anni comunque guardandolo adesso sembra un gioco per PS3 sì questo qui non invecchierà manco in sei anni secondo me hanno fatto un salto da un gioco per PS3 a un gioco vero in tre anni a un grafico non la toglie non la toglie la berseria perché a livello di gameplay è assurdo però anche di tram hanno fatto anche di tram hanno fatto un salto assurdo di tutto quanto comunque cerchiamo di zack zack perché manca un quarto d'ora è la prima borderland 3 sì ci allunghiamo sicuramente la cosa figa di borderland 3 piccato non è tanto ah non è tanto allora anche per i ben voleri di Alice dai muovete il culo sto muovendo il culo perché si sapeva già hanno fatto un sacco di roba ma è fatto che abbiano annunciato un dlc gratuito di praticamente di preludio al 3 quello è stata la è il 2 e il 3 no sì Marco parla del prossimo gioco il prossimo gioco è un gioco che ovviamente sapete io sono grande fan della polso e di la kamiazaki saga dei souls ok e poi dice a me che sono una microsoft fag e quindi questo gioco al den ring quando già quando era stato annunciato tra lì che cose e cose varie e io già stavo con il pipino in mano dopo il thriller che può essere programato per esempio a un trailer di a livello di contenuti a un trailer di cosa come si chiama di aiuto quello di diokojima ma viene perché non si è visto niente è aria wow un ombre della rigiocarlo ho fatto con martin quindi si spera qualcosa di figo abbiamo problemi di xloud che è un grossissimo dito medio a stadio sì sono veramente tanto dito medio venuto bene perché project scarlett la prossima console hanno detto uscirà a natale 2020 e poi all'inizio tra le scuole ci vorrebbe luca ok non ho mai giocato un anno allora bethesda facile ed esclus blitz ok fallout 76 nuova espansione ed esclusi le agenz sti cazzi ed esclusi sti cazzi ghost wire ghost wire praticamente no non posso dirlo qualcuno qua non ha visto ancora endgame giusto? no io non ho visto endgame ok scusami sembra sembra però un ip nuova sembra figo vabbè ci stavamo addormento tutti la nuova espansione l'ultimo episodio della campagna dei draghi su Elder Scrolls Online che è Elsevier non hanno fatto di un cazzo hanno fatto di una cinematic ci siamo commentati tanto che abbiamo scaricato di Elder Scrolls Online unica cosa però unica cosa però commander king su un gioco degli anni 90 per pc e l'hanno riproposto perché hanno finito le idee aspetta facciamo parlare il povero clemento su full on 76 c'è qualcosina da dire stanno cercando di rianimare un gioco morto e forse ci stanno riuscendo ci stanno riuscendo perché hanno messo i NPC hanno messo i NPC che era la maggior critica al gioco si hanno messo io sto confidando in loro io ho un po' di fiducia non mi vuoi animare un gioco nel 2019 e 2019 battle royale dopo due anni no no poi vabbè dlc di rage 2 si vabbè novità su warfest and young blonde che è quello che mi interessa un sacco perché questo nuovo ciclo di warfest è veramente una figata e poi è un co-op quindi death loop death loop death loop è 12 minuti fatto peggio secondo me no dai che sembra questa roba un po' FPS si non m'ha detto molto e poi ti è parlato molto di doom eternal troppo di doom eternal vorremmo vederlo la fin fine sì più che altro c'era la conferenza di bethesda aveva sbagliati i ritmi si ed era una conferenza in tarda nottata per noi vabbè comunque in doom eternal la la novità di doom eternal è che c'è questa modalità 1v1 dove se non ho capito male puoi evocare i mostri per combattere per te sì no 1v1 sì tu sei un mostro evochi altri mostri vabbè eeeh ubisoft pc no no c'è pc no pc gaming pc gaming show pc Alice ha detto di aspettare sta scrivendo qualcosa eh hai fatto così con la mano pensavo fosse aspettate che mi sono mutata no ti stavo messo stiracchiando allora mi state guardando ti sto guardando sì ma in realtà le cose interessanti cuore un po' cominciamo con evil genius ma che era no si è saltato tantissimo l'audio sì un sacco sì no perché altro io pensi che c'è queste conferenze e non le ho viste quindi vi ascolto allora evil genius 2 si è capito poco di quello che è tagliamo un po' in che senso due parole a gioco giusto così sì boh carino lo proverei non un gestionale un gestionale così giusto da provare sì vampire boo mamma mia vampire the musk great bloodlines 2 cazzo raga cazzo però si sapeva già quindi ah io non ho mai giocato star monster star monster star monster mi interessa tantissimo non ho preso non ho preso la creatore di terraria no star di valle non è star di valle star di valle star bond e wargrove ok e quindi interessante anche solo per chi l'ha fatto sì esatto poi c'è ci varrei due lo prenderei anche al day one ma io non al day one però il primo mi ha divertito quindi se posso dire una cosa ragazzi il dlc di forza abbiamo detto ne parliamo domani ne parliamo domani artion del dlc di forza perché sorpresa surprise mosiac mosiac niente di che hanno annunciato l'applicazione cina che è un clicker sì e basta midnight ghost hunt carino è propunt al contrario sì allora midnight ghost hunt è propunt con le prop che possono attaccare carino perché lo sviluppatore è solo uno sembra è solo uno sviluppatore sembra elaboratissimo è gioco per noi quello lì tra l'altro perché si gioca in gruppo è un party un party game bello prego beh io grazie neanche io dico scusate allora un x pro 2 è un rpg un rpg carino era quello che all'inizio non si aveva niente il tipo con lanternino e poi ok il dlc di museo di aziro sti grandissimi cazzi sì piace a luca con un chop chop una barzelletta con un chop chop era un gioco che era stato annunciato come pesce d'aprile e poi ha riscosso talmente tanto successo tra virgolette non ha parlato talmente tanto i giornalisti che l'hanno fatto ok avrei preferito di no sì no perché è una merda la stoisis la stoisis è quello dei macchinoni che non si capiva che all'inizio non fosse cosa come si chiama ah sì quel survival del cazzo sì va bene quel survival con i macchinoni non mi è piaciuto per niente non da di cioè è strano non mi ha detto nulla io non ho che trovo cosa si chiama Age of Wonder Plantfall Age of Wonder non me lo ricordo sembra un pollo carino Age of Wonder zombie army 4 dead war l'ennesimo gioco con gli zombie non se ne può il più anche se da creatore di sniper elite non se ne può il più basta noi domenica a 9 abbiamo 72 titoli con gli zombie no no perché quelli di sniper elite ogni volta che scioccoli di sniper elite fanno un capitolo di zombie sì quindi è uscito sniper elite qua poi ci sta remnant from the ashes a me questo è piaciuto evolve evolve a me non è dispiaciuto in realtà quindi aspetta questo esce forse il replay è un po' ripetitivo quindi questo qua esce questo agosto quindi a novembre diventa free to play ok andiamo avanti griftlands non me lo ricordo griftlands non me lo ricordo possiamo anche saltare a piepare in una cagata colossale era quello che era un flash game sì era un gioco di kart del cazzo planet su è un gestionale possiamo citare luca dicendo se non lo sapete riguardatevi la clip finita questa live perché c'è planet su è quello dei creatori di planet coaster che è un bel gioco quindi speranze alte è interessante l'internet è esploso sì no perché allora shenmoo è una saga che è di nicchia ma che è amatissima perché shenmoo è effettivamente un vero open world cioè shenmoo 1 shenmoo 2 poi di me ma shenmoo 1 qualsiasi zona casa porta era apribile qualsiasi il 3 è stato fatto con un crowdfunding che ha superato di tantissimo la cifra che si voleva raggiungere e lo si aspetta perché la gente vuole shenmoo 2 però la gente la gente però vuole l'aspettativa è veramente veramente quindi vabbè tra l'altro shenmoo 2 è del 2001 sono passati sono 18 anni in europa mi sono arrivati subito una roba del genere song of conquest cos'era? strategico strategico quella rts ok permette due versus ok stessa cosa del multiplayer di doom eternal si poi per aspera adasta per aspera d'asta era gestionare spaziale gestionare spaziale è molto complicato sembrava molto complicato tutto c'è se non è un gioco per telefono che porteranno per pc su epic games non ciò che porti manda da fa culo si chris 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 era un rpg a scorrimento laterale di se grafica disegnata diciamo non so come definirla carino non prendere al day one aspetterei tipo scimmessa due tre euro se non a me invece interessa un sacco walfaris walfaris è carino sembra un metroid forse un metroidvania ciao gazzar ciao gazzar ciao gazzar poi vabbè man eater che è il gioco dello squalo me ne dicevo i gta shunt simulator nuovo DLC di terraria questo qui è un annuncione se ci pensate questo qui è un bel annuncio perché terraria penso sia fermo da un bel po' si ma poi penso sia l'ultimo DLC chiamandosi journey's end journey's end poi telling lies questo qui è fbi simulator gioco di grande fratello a me a me mi interessa a me non mi ha detto niente a me mi piace mi piace io sono pugliese scusa la tua lingua si dice farlo male ora di questo ne parlare questo qui secondo me cambierà spezzerà a metà la community di warframe sarà qualcosa di distruttivo perché vanno a cambiare il gameplay in una maniera incredibile diventa sea of thieves così ok quindi è un po' e sea of thieves nello spazio e invece oh mio dio invece il monster shell ci parlerà di genesis war non mi ricordo neanche cosa neanche e anche io marco ma questo è il che è stato ma elio e genesis war non ci sono stati non me li ricordo non mi ricordo c'erano ma non c'era niente di elio e quel bambino lì che deve scappare dai monaci ubisoft ah cazzo è vero allora ubisoft eh aspetta devo andare anche a passaggio dell'inizio di ubisoft allora ubisoft è stato don't clancy don't clancy don't clancy don't clancy allora watchdog legions è originalissimo se io voglio giocare con le vecchiette con le vecchie con le vecchie ma se ma se vuoi giocare con le vecchie ma se allora no le cose da dire sono la cosa da dire è che questo watchdogs col fatto che il legion quindi tu puoi reclutare personaggi che poi giocherai e tutti avranno i propri perk e ci sono perk positivi e perk negativi che sono legati alla personalità al modo di vivere all'età della persona il fatto che ci siano proprio di qualsiasi tipo ci sono le vecchiette su cui hanno concentrato anche una buona parte del trailer e poi è passato in sordina ma sarà la base principale della mia run c'è gente che si fa di roba adrenalina droghe e quindi possono morire possono morire io voglio fare una squadra solo così una dead sec così si invece invece lo mette bene ma io ho paura di Ubisoft invece Alice ci parlerà di Mythic Quest ma cazzo era Alice è quello di con l'attore quello di con l'attore si lo so me lo ricordo se lo ricordo vai allora c'è quest'enorme cacata che è stata fatturita da quest'enorme altra cacata fatta persona che è stata fatturita a sua volta da una povera donna però posso fare una domanda? sì Alice la a te quello che stiamo parlando è la povera donna la prima cacata o la seconda cacata? allora per adesso si aspetta in ordine di come l'ho detto io o in ordine cronologico? no no in ordine di chi è il soggetto il soggetto è questo semi attore che ha fatto quella quello equivalente delle serie televisive tipo di un posto al sole però americana a place to the sun esatto che si è preso ha cercato di prendersi con auto ironia e per mettere su questa specie di serie tv su questo gioco è un gioco o una serie tv? non si è capito un cazzo e perchè non l'ho capito? no sarà tipo l'episodio di black mirror è un po' l'interattivo ma lo spero perchè una persona così ti sto guardando è una serie tv esclusiva per apple tv non lo vedrà neanche chi l'ha lasciamo stare allora hanno messo john smith il nuovo operatore il nuovo operatore il mario rossi americano il padre di lighty agami si poi c'è vabbè adventure test su bro lalla che in realtà sono reskin ci sta cos'è con breakpoint Alice che è andato sul palco è entrato sul palco un altro ma ti spiegate perchè c'è questa cosa è un po' sessista perchè io intervigo che capita in queste conferenze di cui io sono fortemente innamorata no però non è sessismo nient'altro però rappresenti una parte di pubblico che quello ignorante no in un modo crea un interesse verso si crea un interesse verso il gioco poi può essere positivo o negativo allora beh in questo caso io ho oppurato da voi che tra l'altro era il cattivo si il vostro can giusto e questa è la cosa che ha gasato me a mille mi spargli un mezzo agli occhi e cosa posso dire era un bel gnocco c'era anche un cane molto bello infatti è stato molto bello quando lui ha presentato il gioco mi aspetto venitemi a sparare in faccia venitemi a sparare esatto e Alice ovviamente è l'equivalente dimmi che continuo a guardarmi delle serie tv che non mi piacciono perché ci sono elettrici gnocche ma no non è vero non è vero non è vero perchè Alice ha del senso critico cioè se Ghost Recon è un gioco che non le piace non è perché c'è The Punisher devo per forza finirlo no no io le serie tv come le continuo vabbè un gioco per telefono però un pochino mi sono innamorata di Arnoco mi sono continuato anche se era buggato ma vabbè dicevo lascia stare che lo sto giocando anche io non parliamone per favore best dog best dog vabbè un clancy squad per telefono carino è carino lo vediamo da 20 anni a Zez vi faccio fa la serie Marco a Murant sposta ti faccio io metto io con un toppino a te eh invece di mettere il toppino ti devi mettere completamente nudo si con l'izoma che ti arriva sulle spalle esatto il costume di Borat mi metto il costume di Borat lo so per dire io si bravissimo però col buco al centro deve uscire fuori il pisello ok se me lo piacciono con il costume di Borat scusa eh me lo faccio io prendo prendo delle strisce me lo faccio allora vabbè Marco Marco sei passato da un costume di Borat a metterti solo delle bretelle esatto ce l'ho nella nella armata vabbè il DLC di For Honor ci sta il DLC di For Honor è molto però vabbè la nuova modalità di Rainbow Six ha servito un cazzo a quanto pare è un gioco a parte no no è una modalità è una modalità che però se non ho capito male è a tempo si e quindi non so quanto dedicarci adesso tocca male Mase vai eh hanno cacciato fuori quelli che sono effettivamente i contenuti dei prossimi dei tre episodi dell'anno 1 beh beh dell'anno 1 dell'episodio 1 si sapeva già perché esce tra poco e porterò quando uscirà il secondo sarà un nuovo ride la cosa figa il terzo perché si torna a New York dove è ambientato il primo The Division e questo è il mio pisello che sbatte sulla scrivania vabbè poi c'è anche Ubisoft ha messo lo Uplay ragazzi Marco Dado che gioco di merda è Roller Champions che schifo Roller Champions è un gioco effettivamente se vai a vedere online ha fatto schifo a tutti anzi che non c'era bisogno sì a me ma io ho visto tutta la gente a cui ho piaciuto dimmi ci sono piaciuto tantissimo e io Marco immagino no Marco è piaciuto a tutti quelli che ho visto sì io invece ho visto tanta gente che io no Marco lo amano lo amano l'unica cosa che ho visto è che dicono vabbè ma perché lo pareggono a Rocket League perché perché Rocket cioè l'anima è quella di Rocket League l'anima è quella di Rocket League sì capito sì la prima cosa che abbiamo detto quando abbiamo visto il trailer di Roller Champions è stata il prossimo Rocket League è il prossimo Rocket League togliamo Rocket League e ranchiamo qua conoscete bene la community di Rocket League e sapete come possono essere quindi conosciamo bene alcuni che si sono lamentati sono loro sì in un'ora abbiamo raggiunto il level cap stiamo potendo giocarci tanto ma veramente tanto perché ci sta prendendo è carino è un peccato non poter streamare la pre-alfa perché lag sì perché lag è un po' impicciosa la telecamera e cose così a volte è un po' è difficile no se si pattini è normale se si pattini non è tanto quello e adesso Alice ci parlerà di Gods and Monsters no se fosse giusto un'ultima cosa sul Roller Champions poi tancio a me di fatto un sacco che la gente l'abbia più paragonato a Rocket League nessuno si sia accorto che è è lo sport che si vede dentro ma l'abbiamo detto durante le tre lo so però bisogna ribadirle queste cose cazzo anche dall'altra parte non mi ricordo dove poi molto ok sì non ho visto a Musa la Volcan fa schifo ma tanto basta non usarlo molto velocemente square perchè hai ragione scusami cos'è mostra Alice parloci di cos'è mostra allora è una canzone di lana del re ok questo non lo sapevo vecchio allora l'ho visto sui social vabbè e no è tipo quella quel gioco cartoonish sui sui dei mostri sì 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 quello open world è veramente tanto carino io lo compro nel day one io ve lo dico io lo compro nel day one e ve lo faccio ma soprattutto perchè hanno detto che è open world a me sta cosa mi intripposa a me sta no a me sta cosa sta sul cazzo ma se io ti mostro il fallo che palle un altro open world ma se il feticismo degli rpg open world io non ho mai giocato a kidikaros non ho mai giocato a kidikaros però credo sia no no dico credo sia qualcosa su comunque quel genere lì no però sembra c'è è una show adventure ha ricordato tantissimo il gioco che giocate voi eh dauntless no non dauntless si dauntless a livello grafico a livello grafico si forse un pochino ma anche come genere cioè c'è il guerrieretto che è semplicemente vestito da spartano potrebbe essere ok va lì e uccide i mostri potrebbe essere che gli dei e i mostroni sono gli amiconi potrebbe essere potrebbe essere eh square allora square allora l'having strange 2 no possiamo iniziamo perchè hanno fatto una cosa siamo completamente priva di sense perchè hanno presentato due giochi che sono usciti da mesi uno è l'having strange 2 l'altro è Octopath Traveler si usciti entrambi Octopath Traveler da due anni un anno e mezzo un anno e mezzo un anno e mezzo l'having strange da qualche mese un anno ti ho capito comunque però vabbè si ho capito lasciamola parla a Mase allora l'ha detto che quando fu inizialmente allora ma se non fare sabbaco a che tutti vanno velocemente Final Fantasy 7 una sua versione remake è stata presentata come tech demo per l'uscita della playstation 3 quindi la gente lo sta aspettando io lo sto aspettando la playstation 3 quando lo hanno annunciato alle 3 di due anni fa ho pianto patatino maserano e cucchiolo ho sentito un coglione che parlava vi faccio baciare con le web avvicinatevi un attimo no no uno da una parte e uno dall'altra vai Masi si apposto Marco anche te no dall'altra aspetta voglio vedere la scena oh così aspetta 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 attaccati un po' di più di più di più di più di più ok ora sono confuso perché allora partiamo dal fatto che la grande rivoluzione è che sarà sì mezzo action però non mi dispiace perché giocarlo a turni no dai ci sta questa cosa un po' dinamica l'accento bisogna anche sapere è un remake non è una remastered partiamo da questo certo quindi non metterò il pelo nell'uovo a vedere ogni cosa perché ci sono già degli errori nel primo filmato ma lasciamo stare ma lascia stare madre perché sono uno che dice guardate perché potrei dirti che Claude dal treno non scende in quel modo e scende prima Barrett e poi Claude però vabbè non iniziamo base non iniziamo non iniziamo sono due blu-ray sì e non è neanche tutta la storia ma siamo sicuri? sì hanno detto che non sarò neanche quanti parti saranno e perché non ci hanno scritto parte 1 nella cazzo di box art però la cosa è ma parte 1 non è parte 1 di X la cosa però è che 1.5 come Kingdom Hearts è che vogliono aumentare vogliono concentrare tutti questi due blu-ray all'interno di Midgard che anche se ci pensi Midgard è la città fondamentale dove avvengono tutte le vicende più importanti iniziali e dove poi tu puoi esplorare pochissimo di questa città quindi anche poi il team dell'Avalanche che sarebbe questo gruppo che sta intorno a Tifa a Tifa, Claude e Barrett tu lo vedi per due minuti poi scompare dalle vicende invece lì si vedono delle interazioni delle cose mi interessa voglio esplorare di più del modo di Final Fantasy VII quindi sono molto contento e non vedo l'ora che arrivi il cazzo di 3 marzo 2020 poi The Last Remnant Remaster allora è un gioco che a me ha interessato tanto si mi ha intrippato cioè allora il gameplay è carino è complicato è complicato no no scusami Alice? non è immediato Alice? è caduta ragazzi è caduta Alice è sprofondata allora qual è il fatto del gameplay di The Last Remnant a renderlo complicato? è il fatto che i comandi variano all'interno di un combattimento per chi dipendono da ehm condizioni climatiche dipendono da è un campo di battaglia è un campo di battaglia quindi dipende anche dalla posizione cioè il morale degli alleati dei nemici il risultato di un combattimento è molto ehm influenzato dal morale tuo degli alleati e degli avversari quindi sembra sembra difficile e interessante e carino io lo prenderei prima comunque c'era Crystal Chronicles Remaster per Switch si si ci sta per Switch è perfetto perchè è in co-op si vuoi giocarlo in couch co-op quando uscì però quindi ci sta come? anche perchè Crystal Chronicles è vecchiotto è uscito in sordina Crystal Chronicles e poi uscì anche su GameCube mi pare ai tempi io ce l'ho lì tra l'altro poi vabbè Dragon Quest Builders 2 mi dè su airoo parla che a me non piace però io lo compro non al day one perchè so che scenderà di prezzo appena possibile si no esce subito vedendo vedendo come è andata continua però sembra veramente tanto carino ma mi è stato sul cazzo perchè c'è questo cosa? mi è stato sul cazzo perchè hanno fatto una cosa tipo 5 minuti di trailer quando in Giappone è uscito a dicembre si quello si cioè basta mi fate vedere che esce mi fate vedere un trailer di un minuto è carino perchè comunque se non ho capito male i server sono molto grandi quindi puoi giocare con tante persone in più oltre al fatto che giochi con tante persone ci sono tutti gli npc che puoi comandare e direi fai quello e loro lo fanno mi piace molto gestire la gente nei giochi di quel tipo Dragon Quest 11 per Switch vabbè c'è uscito da un bel po' e quindi io non ho mai giocato un Dragon Quest ho cominciato oggi a giocare sotto consiglio di Mase Marco non si è sentito? allora diciamo non ho mai giocato un Dragon Quest ho cominciato oggi a giocare Dragon Quest 8 sotto consiglio di Mase perchè? perchè Dragon Quest 11 mi ha intrigato tantissimo e io ho iniziato oggi l'11 l'ho iniziato oggi l'11 e mi sta piacendo davvero tanto quindi appena potrò mi prenderò l'11 per Switch e poi l'Art Direction è di Toriyama è di Toriyama è di Toriyama infatti è di tantissimo che sembra Dragon Ball si ci assetto il protagonista è un gioco di macchine in isometrico a quanto sembra a me piacciono i giochi in isometrico si si a me piacciono un sacco quei giochi la vediamo notte quella con Gon come una bandana si Battalion Battalion era quello inutile è una cazzata cioè è un gioco dove penso spero sia free to play perché è un FPS di 15 anni fa di 10 anni fa di 15 anni fa cioè potrebbe sembrare tranquillamente un 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 cosa un in un 2 che è un che è un free to play e è la stessa cosa nuova espansione 14 io piango anche tu piangi bene passiamo oltre romanzi in saga 3 e saga scarlet che sappici sono questi due RPG dal Giappone arrivano anche in Europa e la cosa buffa è che noi non abbiamo mai sentito parlare di questi RPG sono lì fuori da 20 20 anni 25 anni mai sentiti nominare una volta mi sono sentito un ignorante di merda sì sì perché non è possibile parliamo velocemente di questi altri due vabbè è uscito un titolo parallelo a Brave Axiobius che è un mobile di Final Fantasy la Square War of Visions ricorda molto il primo Tactics è uscito della remaster di Final Fantasy 8 Oninaki è molto interessante Oninaki mi ha ricordato molto Bravely Default ma il gameplay non è assolutamente quello di Bravely Default no non lo è cioè come Outline Outline che sembra fico Outline non me lo ricordo quello shooter della tipa sì si è visto veramente poco però ah sì si è visto poco eh l'ho detto pensare mustred ok sì Marvel Avengers ragazzi sono un po' cringe se mi posso permettere sì anche per io non lo prenderei mai nella vita allora graficamente sembra una figata allucinante sì sì però per il resto se quello che hanno detto se quello che hanno detto è che è un action adventure con i pupazzetti della Marvel sono contento cioè lo vedo solo per gli uomini pupazzetti della Marvel e vabbè e ora Nintendo così chiudiamo adesso ripeto forte Nintendo qui qui c'è si comincia con smash con i DLC di smash li diciamo entrambi insieme anche se sono saggianti in due momenti differenti il primo è di dragon quest poi sono stati 5 personaggi tra un quest tra l'altro a confermare la collaborazione di Nintendo con Square perché esatto anche il fatto che asce la versione esclusiva per Switch di Dragon Quest che hanno brevi default in esclusiva che fanno il remake la remaster di Crystal Chronicles in esclusiva su Switch c'hanno un po' di trallazzi insomma e è bello che abbiano presentato non uno ma due DLC di smash questo gioco infinito che non si fermerà mai una scena estate e una in autunno una in estate e una in autunno quindi puoi anche rispondere un po' di soldi Dragon Quest ci ha parlato Luigi Smash è un 3 no stavo rispendo l'altro DLC di Smash Maggio Kazui era era diventato un meme no la cosa più che altro è questo è a dimostrazione dei fatti invece della collaborazione tra Trani Nintendo e Microsoft si se no come ne va po' che abbiamo comprato allora Banjo Kazui era diventato un meme già da Smash 4 che tutti dicevano ad Banjo Kazui ad Banjo Kazui alla fine l'ha messo come hanno messo Ridley già dall'uscita come metteranno nel prossimo Minecraft Steve lo dico qui Dado guardami potete chiedere quello che volete ma se Luigi non lo mettono ma se è già un assist non può esserci Luigi non lo metteranno mai lo so ma non mi interessa Luigi's Mansion 3 sembra molto figo sembra molto rifinito le animazioni sono una figata poi c'è questa cosa del couch del couch co-op che è una figata anche questa proprio in stile switch perché il couch co-op o lo giochi su switch o non lo giochi praticamente perché ce l'hai già incluso non c'è bisogno di comprare due controller ste cazzate qua insomma e sembra interessante poi Luigi's Mansion è sempre divertente da giocare quindi ma invenga Dark Crystal Age of Resistance non me lo ricordo non me lo ricordo neanche io è una sala giverta è una sala giverta velocemente il trailer e no vabbè è tipo un è quello simile a un Fire Emblem sì è un Fire Emblem e ora ci si diverte è che Link's Awakening hanno è una sfida Link's Awakening perché tu hai un gioco in 8 bit per Game Boy Game Boy Color cosa fai lo riproponi in salsa ultra realistica che vedi i peli del culo di Link i peli del tempio di Zelda no no i peli del tempio i peli della triforza i peli della triforza no tu fai dei cazzo di giocattoli gli animi tu mantieni lo stile mantieni lo stile puccioso dell'8 bit ma la fai in chiave moderna perché c'ha degli shader allucinanti quel gioco c'ha delle animazioni che mi piacciono un sacco c'ha dei colori che mi ci masturberò e niente e soprattutto hanno messo la possibilità di creare i propri dungeon questa cosa perché se ne parlava oggi no ieri sera con madre perché perché il gioco essendo su Game Boy durava quello che durava non durava quanto uno Zelda saranno 15 ore di gioco e tu cosa fai fai un sistema in cui crei fai sì un sistema di creazione di dungeon e di condivisione di dungeon e quindi ti diventa infinito il gioco praticamente sì sì ed è una gran figata è dopo 3 è dopo è dopo ti lascio la parola mana wow la saga dei mana ciao alice cosa ah alice ha sonno ragazzi la saga dei mana abbiamo quasi finito alice una delle saghe più importante di enix prima della fusione con square soprattutto consiglia tutti di giocare Secret of Mana che è anche riuscito in su ps4 e tra l'altro tra l'altro oggi mi sono ascoltato un po' di colonna sonora del primo mystic quest sono ho pianto ho pianto ho pianto perché ieri l'ha tirato fare il trailer e ho pianto 3 3 alice il terzo capitolo quindi wow e a proposito di mana hanno annunciato anche la collection dei primi così potete anche recuperarvela allora vabbè alice alice parlaci di The Witcher 3 su Switch anche detto The Switcher 3 The Switcher 3 The Switcher 3 esatto ho semplicemente fatto un commento sulla mobilità cioè è incredibile questa cosa però dicono cioè sono cominciate un sacco sono partiti un sacco di meme sul fatto che si fonderà la Switch comunque allora la cosa sì è vero perché io non me lo spiego come possa reggere The Witcher 3 la Switch ho capito che l'hanno downgradato un sacco ma comunque non mi spiego come possa reggerlo comunque è comunque un gioco enorme e poi e poi e poi Omase o Airo ci parlano di Fire Emblem 3 Houses ragazzi è Fire Emblem su Switch che cazzo dobbiamo dire di più con con le transizioni anime no quello che non sapete è che noi di questo gioco che esce precisamente il 26 di luglio abbiamo visto solo le cinematic abbiamo visto solo le cinematic non sappiamo veramente un cazzo di niente incredibile zero devi sceglierti una delle tre case fine non c'è nient'altro e fai Remblem su Switch punto appunto è uno spettacolo vabbè Resident Evil i porti in Resident Evil su Switch ma che cazzo dici ma che cazzo stai dicendo cosa dimmi che capitoli sono 5 5 6 non è Resident Evil andiamo avanti allora finalmente 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 non posso dirlo perché è razzista finalmente quell'uomo di merda di Suda si è svegliato al suo cazzo di letto si è svegliato al suo cazzo di letto dopo dieci anni ha fatto il seguito di No Moriros 2 e spero che sia ironico come i primi due hai visto il trailer no devo vederlo bene però lo spero finalmente sei svegliato quel pezzo di merda perché se è come i primi due veramente da lenzuola con le macchie sopra è stato molto figo il trailer poi posso dire una parola su Contra Rogue Cops e l'aniversario Collection che merda non c'era bisogno di farlo andiamo avanti chi è capace con gli FPS di giochi e poi ne riparliamo andiamo avanti siamo tutti primo contro sono d'accordo sulla Collection questo vabbè ma da SuperCin poi è morto appunto quello dicevo quello in 3D dicevo non c'era bisogno allora mi sembra una violenza è un ex machina esce fra due mesi un mese due mesi io ho provato ho provato la demo ed è divertentissimo e sei un robottone che uccide gli altri robottoni che cazzo vuoi di più da un gioco porca puttana e il robottone è customizzabile si ah ok Panzer Dragon non ne parliamo ma poi grazie ma perché non mi è piaciuto perché Star Fox è Star Fox in cui vai in cui vai invece che andare velocissimo con la strunale e vai a 20 km orari si 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 è giocato a Darksiders il primo Darksiders si ti ricordi quel livello dove cavalcavi l'uccello e sparavi il grifone volevi morire si eccolo lì tutto il gioco solo quello ora è il gioco di Darksiders 1 ok ai riuscii parlerà di Astral Chain Astral Chain è una fusione tra un action RPG e Jojo perché sono praticamente degli stand quei cosi lì che catturi esce tra pochissimo esce il 30 agosto non sappiamo una sega antico di questo però sappiamo che è della Platinum Games che c'è e quindi fiducia per il director mi sa abbastanza invece lascio lascio l'onore a Marco in parlarci di Empire of Sin che cazzo è Empire of Sin andiamo avanti ha detto bene ieri Iroh è XCOM con Mafia io ricordo ovviamente Mafia XCOM Marvel non mi dice un cazzo direi saltarlo a pie pari perché il giochino del cazzo Cadence of Hyrule era carino Cadence of Hyrule è un dungeon crawler quasi a turni perché si a ritmo e il fatto che Nintendo abbia ceduto le proprie del tutto perché puoi controllare Link e Zelda ha un gioco che è indie questo cos'è però è esclusivo comunque su Switch è esclusivo su Switch ovviamente ma tu ce la vedi Nintendo di 10 anni fa 15 anni fa affidare le proprie P a un indie devono rifarsi un po' i soldi perché no questo è cambio di filosofia perché tu hai cambiato due presidenti è cambiato ma cambiato comunque sia Kimishima l'ha cambiato vabbè Mario Sonic è giocato Mario Sonic Mario Sonic invece anche questo è un grandissimo step perché da quello che ho capito sì da quello che ho capito mesi fa questo gioco esce anche su PS4 no è esclusivo è esclusivo allora ho capito male tempo fa a posto vabbè al solito Mario Sonic Animal Crossing Animal Crossing Animal Crossing hanno preso il gameplay classico di Animal Crossing ovviamente hanno pompato la grafica ci hanno messo la componente Sandbox e con Animal Crossing è il suo e anche delle cose è il suo perché tutti i crafti è una killer application sì sì come lo è stato per 3ds e New Leaf anche se in realtà la killer application è un altro ma ne parliamo alla fine ne parliamo alla fine vabbè vabbè vogliamo finire spero sì quasi la bomba delle bombe adesso diciamo adesso però abbiamo finito perché dopo questo non puoi dire dopo questa non c'è nient'altro abbiamo finito vabbè ci sta super partiamo dalle cose eh prego eh no saltiamo ne parliamo dopo della bomba ok allora ieri durante il treehouse nella demo che c'è dei tizi che sono lì in fiera mortacci loro hanno presentato due pokemon nuovi uno è brutto per essere brutto uno è un diavoletto sembra non lo so è un gremlin l'altro siamo noi l'altro siamo noi è un corgi elettrico con un cuore sul culo ha un cuore sul culo ragazzi siamo noi non c'è altro da dire siamo noi niente vabbè hanno visto fatto vedo hanno fatto vedere qualcosina la palestra d'acqua hanno chiarito un po' dei multiplayer nel senso che tu vedi gli altri giocatori ma come npc insomma un po' di roba e marco guardami no no cosa c'è da dire di mario maker 2 è super mario maker no ma di nuovo non so cosa abbiamo presentato marco guardami negli occhi silenzio totale silenzio totale guardami negli occhi dato hanno marco 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 aspetta aspetta un momento di riflessione un momento di riflessione un momento di riflessione di silenzio un momento di silenzio aspetta un attimo marco dato marco ma cosa sta per uscire qual è il la sparo grossa non mi fai un cazzo di voi chat qual è il mio gioco di ultimi dieci anni zelda breath of the wild marco cosa sta per uscire marco cosa hanno presentato ieri cosa hanno detto ieri hanno detto che uscirà breath of the wild il sequel ora no no non c'è bisogno di dire altro non c'è bisogno di dire altro è finito dal momento in cui si sono visti gli shader le immagini gli hai dato stammoli a guardare queste altre io ho visto lo shader della calamità che hanno fatto no non può essere zelda non può essere zelda se rivedete se rivedete la live no se rivedete la live gli faccio marco è quello che pensiamo e all'inizio si pensava fosse un dlc è un dlc convinto dai un dlc vabbè ci sta il dlc è bello non il 2 ma poi appare la scritta appare la scritta è in sviluppo il sequel di breath of the wild io mi sono rotto io mi sono rotto in live avete presente del gioco che è breath of the wild se voi prendevate un cazzo di encefalografo me lo ficchiavate in testa io ci ho le onda alfa piatte marco piatte marco io probabilmente ho fatto venire un infarto ai miei vicini e ci hanno 90 anni per uno ieri non c'è altro perché breath of the wild è il gioco breath of the wild 2 non può che essere il gioco allora voi considerate che dura senza farlo al 100% ti prende una cinquantina di ore di gioco prendendolo se fai le cose in fila si potresti anche finire in 40 minuti se fai le cose in fila potresti anche oddio no perché comunque ci vuole il tempo che ci vuole per arrivarsi andare lì in mutande in bastone a battere la calamità non subito senza potenzialmente dei colossi eh si però vabbè lo farò in effetti vai io me lo sono mangiato era da tanto che non mi trovavo nella condizione di voler continuare voler assolutamente andare prendere lo switch hai smesso di parlare ah si prendere lo switch e vabbè di prendere lo switch in mano e continuare un gioco perché di solito quando mi compro un gioco così arrivo a casa faccio vabbè se sono un altro da fare lo gioco invece ho proprio la voglia di giocare tanto non avevo questa sensazione quindi nulla per la gioia di alicia abbiamo quasi finito ma vi chiederai l'ultimo sforzo per l'odio di alicia ci sarebbe una cosina da aggiungere ma poi vi devo chiedere una cosa che non è tanto è il sequel di breath of the wild è un sequel di legend of zelda un sequel diretto è la seconda volta in tutta la saga di zelda che esce è la prima volta perché uscì perché anic to the past è acclamato universalmente era è la terza volta perché a link between walls è il sequel diretto la prima volta è stato è stato con legend of zelda 2 si se vogliamo mettere i punti di sull'ice anche ocarina of time e major as mask non sono sequel diretti che non sono sequel diretti però lo sembrano visto che hanno lo stesso engine sono usciti a un anno due anni di differenza però si nulla vi farei una domanda a tutti invece marco sta vi farei una domanda a tutti quanti pareri generali due parole su queste tre pareri generali due parole per uno inaspettato si inaspettato e io non l'ho visto tutto quindi non posso neanche dire cioè mi sarebbe piaciuto seguire quella del pc ma non sono riuscita quello che ho visto mi è piaciuto devo dire che il primo e 3 che seguo in modo coscienzioso e lucido quindi coscienzioso a parte vabbè il di non esiste io non esiste ma io continuo a non considerarlo e lascia stare dicevo che te mentre non so se sei devi farci vedere questo ero probabilmente l'unico che ci sperava in questo e3 e sono contento ma anch'io ci speravo io avevo a parte che la maggior parte dicevano no no questo e3 sarà bonti sarà fiacco io invece non ho detto secondo me la fanno la bomba e infatti diciamo che io ero ero contento di queste tre soprattutto perché lo streamavo con voi con voi della chat e lo streamavo con voi i corgi ero contentissimo perché era una delle prime volte in cui condividevo ne3 con qualcuno per intero la prima volta e insomma commentarlo con con chi i videogiochi ne sa come voi anche per chi ah io no no aspetta 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 anche per chi ci gioca ne fruisce ma non ne sa è comunque interessato quindi è interessante questa cosa mi è piaciuto mi è piaciuto per me io queste tre ero cominciato che ero partito non ero cominciato ero partito che dicevo boh per me potrebbero fare qualcosa di interessante poi avrò tu davanti a dirmi no non è vero quindi sono una buggese che ho abbastanza il branco diciamo quindi sono gli altri che ne sono più dimenti sono una cagata sarà una cagata invece sono rimasto anche preso sorpreso nulla amici sono cose interessanti quindi va là ho una lista di non so quanti giochi mi va amici sei buon mese che vedo guardingo non vuoi aggiungere altro eh ti vedo guardingo e vispo come una volpe australiana e africana io penso che la volta che sono sono conciso è inaspettato amici amici io vi ringrazio tantissimo per aver seguito le tre con noi perché le tre con noi siete stati fantastici anche voi anche chi si è recuperato anche i norari imbarazzanti anche i norari imbarazzanti non eravamo da soli sì e che dire allora sì vorrei dire questo è la bancarotta esatto le pipo è disperato perché vuole comprarsi lo switch e sta cercando di farselo il prima possibile amici vi ringrazio tantissimo per averci seguito in generale in queste tre anche alle 4 di notte e anche oggi nel recappone ringrazio i miei amici corgi per essere stati sempre presenti non avermi mai lasciato da solo in questa follia che era seguire le conferenze alle 4 di notte sì tra l'altro in piena sessione d'esame ho fatto questa sessione d'esame io non lo ero per scelta ovviamente d'altronde io oggi ho fatto un esame e probabilmente non l'ho passato per chi la mia vita fa schifo speriamo e nulla amici vi ringrazio vi saluto ci vediamo come sempre come al solito come al cerchio domani sorpresone tra l'altro domani sorpresone dall'evento di 23 ci vediamo Alice sta morendo di sonno io mi trattengo il più possibile per farlo addomentare anche con i saluti non vi lascio e Arti ho metto l'interno del naso ti lecco a poco prezzo giusto usate il nostro referla ciao amici Alice vuoi salutare il nostro pubblico? ciao ciao